Siamo qui con Gianna Pamic, amministratore delegato Pastelli. Quali sono le novità che presentate in fiera? Buongiorno, presentiamo il nuovo cotone sintetico. È una fibra innovativa, tecnologica, che abbiamo creato, che garantisce tutte le caratteristiche del cotone, per cui abbiamo un comfort assoluto, tra spiabilità assoluta, facilità di lavaggio, sterilizzazione possibile, bassa carica elettrostatica, però a questo uniamo i comfort delle fibre più moderne come la viscosa o i poliesteri, che consentono di non dover stirare l'articolo e inoltre durante il giorno l'articolo non si stropiccia, rimane sempre perfettamente a posto. Grazie. Grazie.